Come ottenere tutte le esportazioni possibili da un modello 3D? Ciao, sono Marco Chiarello, architetto, formatore e divulgatore di questo straordinario strumento che è SketchUp. Lo utilizzo da circa 15 anni e sono consulente del distributore italiano. Ho scritto un manuale, edito con Maggioli e negli ultimi 7 anni ho tenuto circa 60 corsi a più di 3000 iscritti in tutta Italia. Attraverso un uso corretto e coordinato delle scene sarà in grado di ottenere tutto ciò che un modello 3D può dare. Da immagini statiche ai video, dal computo all'esportazione in formato CAD, dalla realtà virtuale alla stampa in scala. Vengono messi a disposizione i file su cui esercitarsi lungo il corso. Si tratta di un caso pratico che attraversa il flusso di lavoro in modo logico e facile da memorizzare. La personalizzazione degli stili grafici, il coordinamento di scene e sezioni, le impostazioni per l'esportazione e la stampa. Ho pensato questo corso per i progettisti che vogliono perfezionare al meglio l'inquadratura all'interno del modello, in modo da ricavare dal 3D, molti output, molto materiale da condividere facilmente con colleghi e clienti. L'esempio proposto è di ambito architettonico, ma i principi esposti sono validi anche per l'arredo, il design e altri settori della progettazione. Grazie ad aver ascoltato questa breve presentazione sul nuovo corso su scene e forme di esportazione. Se vuoi spremere da un modello tridimensionale tutto quello che dal 3D si può ottenere, iscriviti al corso oppure dai un'occhiata alle lezioni gratuite.